radio bruno in diretta dal festival di sanremo amici di radio bruno siamo in diretta qui da sanremo e sono in buona compagnia perché è venuto a trovarci redganzian benvenuto buongiorno buongiorno a voi allora come stai a parte il maltempo qui a sanremo però insomma che emozione si respira qui a sanremo anche se il palco dell'ariston lo conosci molto bene ma in realtà non è che lo conosco così bene perché sono venuto a sanremo tre volte come produttore e ho portato una volta marco armani una volta mickey porro che è il coautore del pezzo che presento stasera e una volta le lipstick che era una band rock di ragazze poi sono venuto una volta come super ospite con i pu o due ma il festival che io ho vinto con i pu non era all'ariston era al mercato dei fiori di arba di taggia quell'anno non lo fecero all'ariston per cui l'ariston lo conosco di più quando nelle tournette trali si passa a suonare anche all'ariston quindi è un'emozione tutto sommato nuova un'emozione ma però insomma il tuo percorso da solista quindi debutto da solo sul palco insomma è ti crea questa emozione nuova questa adrenalina insomma c'è sempre non manca mai la sana adrenalina che ci deve essere per fare questo mestiere per continuare a farlo però ecco non ho non ho tensioni non ho paure non ho stress me lo sto vivendo con grande serenità e con la gioia di quello che sto facendo che è importante gestire però questa serenità essere sempre molto tranquillo beh io sono uno che cura anche l'alimentazione nel senso che sono vegano e non mangiando cose che possono far male al nostro corpo ma anche alla nostra anima perché in realtà mangiamo il dolore di questi poveri animali che vengono uccisi probabilmente non incamero tensioni e sono più sereno infatti hai detto che il segreto della felicità è proprio l'equilibrio di quello che sei di quello che fai come come la bilancia come si bilancia tutto dobbiamo assomigliare alle nostre voglie allora sei in equilibrio perché se sei distonico con te stesso ti gira tutto storto intorno anche il mondo anche chi ti frequenta vive male se tu sei in equilibrio con te stesso trasmetti soltanto certezze sicurezza serenità e allora oltre a star bene tu fai star bene anche gli altri ognuno ha il suo percorso e il suo racconto il suo racconto scusami al titolo del brano che porti appunto sul palco dell'arison che cosa racconti allora in realtà sembra la storia della mia vita in realtà sembra la storia della mia vita e in effetti io dico ne ho incontrata di gente cara ne ho dipinta di primavera e sono contento di me ho percorso chilometri ho scampato pericoli e sopravvissuto sono arrivato fin qui ma poi l'inciso comincia con ma ogni storia ha un suo racconto ogni storia ha un suo percorso ogni uomo ha un suo esclusivo canto e lì viene diciamo esaltata l'unicità di ognuno di noi perché ognuno di noi ha un'impronta digitale diverso dall'altro e quindi ogni storia di ognuno di noi è diversa dall'altra ma soprattutto viene esaltata la la gioia la meraviglia di quello che è la vita e di come va interpretata e di come nel nostro personale canto dobbiamo dobbiamo gestirla e trattarla perché solo cantandola bene questa vita ci può dare delle buone soddisfazioni e questo brano fa parte di un album di 13 inediti che uscirà il 16 febbraio esatto che presenteremo a milano il 16 in conferenza stampa e sono 13 brani io scrivo le musiche sono stato viziato nella mia vita con autori di testi molto bravi il povero valerio che se n'è andato troppo presto era un poeta assoluto e quindi sono andato a chiamare gli amici che stimo di più per scrivermi i testi su queste mie musiche quindi c'è ivano fossati enrico ruggeri erbal meta renato zero vincenzo incenso micchi porro che ecco autore come del brano di san remo fabio ilacqua gabriele canarozzo insomma quelli che io amo per come scrivono quest'anno non c'è l'eliminazione ecco questa cosa tira serena o no ma sai trovo che eliminare dei big non era una cosa molto carina era un po quella voglia di corrida quella voglia di talent di eliminazione che non so se fa bene la musica non può vincere coi numeri deve vincere col cuore cioè la musica deve arrivarti addosso in una maniera talmente diretta che non può essere quantificata da un punteggio poi domandiamoci chi lo fa questo punteggio giusto persone a volte distratte persone a volte incompetenti persone che a casa magari ti votano perché hai il sorriso di più o hai una giacca bella più che per la canzone allora io credo che la musica deve essere trattata come il cinema il cinema fanno i festival ma mica c'è l'eliminazione si presentano una serie di film al festival di venezia poi decide il pubblico decidono le sale cinematografiche quante pellicole prendere e così va avanti perché non si può in quattro minuti decidere se una cosa è perfetta o è sbagliata tant'è che zucchero e vasco arrivarono ultimi e non mi sembra che abbiano avuto una carriera così infelice bene io ti chiedo un'ultima cosa un saluto per gli amici di radio bruno che insomma ti seguono sempre beh io con radio bruno sono legato bene sei ormai amico di radio bruno devo dire che è una grande radio e spero di di venirvi a trovare anche in sede a raccontarvi bene l'album appena uscirà e niente cosa posso dirvi sono felice di essere passato da voi prima del debutto di stasera grazie red canziana a radio bruno qui a sanremo radio bruno in diretta dal festival di sanremo in collaborazione con grissin bond modena giochi alessara guest house mondo convenienza rosanna alpi concessionaria rino franciosi cornacchini ods giocattoli e biper banca